Scoperta dalla Guardia di Finanza via Regina una maxi-evasione fiscale perpetrata da alcune imprese con sede in Pietrasanta e operanti nel settore dell'estrazione e lavorazione del marmo. Dopo un'attenta attività di analisi condotta sugli operatori di uno dei settori economici trainanti dell'economia versiliese, le Fiamme Gialle hanno avviato nel settembre di due anni fa una complessa attività ispettiva che in poco meno di un anno e mezzo ha visto concludere quattro verifiche fiscali e cinque controlli nei confronti delle società riconducibili ad un medesimo nucleo familiare. Le ispezioni dei finanzieri hanno permesso di disarticolare un complesso sistema di frode fiscale basato su un giro di fatture false emesse e utilizzate dalle società del gruppo per giustificare solo cartolarmente la compravendita di ingenti quantitativi di marmo sia sul territorio nazionale che in Spagna. Per queste ultime operazioni le aziende della Versilia si avvalevano di una società iberica avente solo formalmente sede alle isole Baleari ma di fatto operante in Italia e riconducibile agli stessi imprenditori. Accertata la frode milionaria i legali rappresentanti delle società versilesi sono stati deferiti alla procura della Repubblica per i reati di emissione e utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti mentre al legale rappresentante della società spagnola è stata contestata anche l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali. La procura lucchese ha avanzato una richiesta di sequestro preventivo dei beni per un ammontare complessivo all'equivalente delle imposte evase. Il tribunale di Lucca accogliendo la richiesta della procura nei giorni scorsi ha emesso un decreto di sequestro preventivo per quasi 760 mila euro. Complessivamente l'operazione ha permesso di appurare basi imponibili sottratta a tassazione per oltre 7 milioni di euro, fatture false per più di 4 milioni e mezzo e quasi 1 milione e 400 mila euro di IVA, nonché di sottoporre a sequestro i due immobili di lusso a Forte dei Marmi.